... Difendete la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Il muro è stato rinforzato! La porta è fatta! Mancano dieci secondi. Avvio il jammer. Cinque secondi. Posizione contenitore di biorischio ignota. Tenetelo a sicuro. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Cazzo l'ADS! Cazzo l'ADS! Cazzo l'ADS! Cazzo l'ADS! Cazzo l'ADS! Cazzo l'ADS! Grazie a tutti. Il nemico in posizione per la scansione. Avvio del timer. Ricarica! Drono nemico in arrivo. Inizia il conto. Il drone nemico è quasi in posizione per la scansione. L'ultimo nemico è rimasto. Siamo a 15 secondi. 10 secondi e via. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Ben fatto. Contenitore di biorischio trovato. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi all'inserimento. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Questa è un po' di biorischio. Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok 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 eliminata difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio un nuovo seguito operativo fortificato sicurezza apriamo il gemmer ancora 10 secondi restano 5 secondi il nemico non ha trovato il contenitore di biorischio porto barricata il a Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 secondi. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Ricciarico! Vai di nitro! C-4-0! Proteggete il co-difesa contenitore di biorischio in pausa. Pensate al nemico. Un operatore alleato rimasto. Proteggete il contenitore di biorischio. Missione fallita. Difensori uccisi. Trovate il contenitore di biorischio. Ben fatto. Contenitore di biorischio trovato. Ancora 10 secondi. 5 secondi. Raggiungete la posizione nel contenitore di biorischio. Perchata. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Difendete la stanza e proteggete il contenitore. Lasciate perdere il contenitore. Attività nemica. Neutralizzate la minaccia. Difensori eliminati. Tutto il contenitore. Tutto il contenitore. Tutto il contenitore. Tutto il contenitore. Difendete la stanza. Tutto il contenitore. Tutto il contenitore. Tutto il contenitore. Tutto il contenitore. Ancora dieci secondi. Siamo a cinque secondi. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto il contenitore. 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 Drone nemico in esplorazione. Ricarico. Prot Gruzzi dai contenitore di biorischio. Prendete il contenitore di biorischio. Impedite al nemico di prendere il contenitore. Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore. Sventate ulteriori accessi al contenitore. Difesa contenitore di biorischio in pausa. Pensate al nemico. Proteggete il contenitore di biorischio. Resta solo un uomo di rinunciato. Ultimo attaccante rimasto in vita. Vittoria alla difesa. Nemici eliminati. Nemici eliminati. Grazie.